Oggi dovrai insegnare un po' di italiano a Ryan e ai ragazzi. Sì, dico che Ryan è un bravo studente, già è pure, mi preoccupa un po' Covi. Covi, devo dire che ha un dialetto varisotto un po' troppo pronunciato. So Ryan, we are here, we are in Pescara. What do you learn already from Italian culture? People like to shout, people are very loud, but they love cycling and… Ice cream. And ice cream, and cappuccino. And cappuccino as well. But you can't have it after one o'clock. Ah, yes. Also never after a meal. Never after a meal, ok, ok. But learning a lot, so looking forward to learning more things over the next three weeks. Ok, now I teach you one thing already in Italy. Perfect. Now we should go to ask to have an ice cream for free. Benico e Sorocco. Mimbafo is for Italian style, no? Flash power. Mario style. Almeida Land. Who's the most ugly here? Me too. I think there's a reason why you never go on camera. Earth. So now we are going to, just ahead of our team presentation, we're doing the photographs and some of the media admin that we have to do ahead of a grand tour. We are good. We are good. We are good. We are good. We have only a little baffo. Il viaggio verso l'amore infinito, quest'anno è un viaggio che ci parla di sopra. Non c'è anche nello schieramento sull'impatto. La formazione si presenta in assi di partenza con Ryan Gibbons. Ancora Italia con una già campione di taglia di professionisti. La dà al Giro d'Italia un po' delle strade bianche per Davide Proccia Formalò. La dà al Giro 2020, signore e signori, al portogallo, Joao Almeida! Sono molto felice di essere qui e facciamo il taglio Giro. Qui siamo, la prima stagione di Giro d'Italia. È già un po' difficile, un po' difficile. È semplice per il Pro 5, molto rapido, un buon percours. Ma ho aspettato alcune differenze di oggi. Nel ragazzo, sono ok, sono pronti, sono pronti per andare. E spero di essere arrivati a un po' a un po' a un po' a un po' a un po'. Grazie a tutti! Guardate il ride di Xiala al Neda in scelta. Questo è stato un momento straordinario. Qual è il momento di Xiala al Neda?